E adesso andiamo in diretta a Pescara da Paolo Renzetti a cui do il buon pomeriggio in compagnia se non erro dell'assessore alla sanità Nicoletta Veri perché questa mattina proprio l'assessore Veri ha avuto un incontro con le istituzioni della Valle Peligna per fare il punto sulla situazione dei contagi. Buon pomeriggio Paolo. Sì, grazie Jacopo, esattamente, è proprio così, tornata da pochi minuti in assessorato a Pescara l'assessore Nicoletta Veri questa mattina c'è stato questo incontro a Sulmona per fare il punto, assessore sulla situazione Covid in Valle Peligna insomma cosa è venuto fuori, qual è la situazione ad oggi? Sì, abbiamo avuto un incontro con i sindaci, un incontro dove si è evidenziato che non ci sono i parametri per definire zona rossa la Valle Peligna in quanto ci sono stati dei microfocolai che sono stati gestiti in maniera tempestiva attraverso tutto un percorso di tracciabilità di questi pazienti per cui anche oggi i risultati che noi abbiamo dei tamponi sono risultati che ci danno una garanzia che è stato svolto un lavoro attento e preciso in quanto non ci sono ulteriori casi positivi nella zona Valle Peligna Sessore, situazione invece in generale nella nostra regione qual è? La situazione della nostra regione è che come voi vedete c'è un'alternanza dei dati positivi questo vuol dire che nel momento in cui si evidenzia un focolaio siamo in grado di aggredirli questi microfocolai attraverso tutto ciò che è un procedimento dettagliato riguardo alla presa in carico del paziente sia sul territorio che in ospedale. Oggi quello che evince è un numero alto di persone guarite quindi vuol dire un sistema che sta funzionando, quello che abbiamo anche delineato nell'ambito di questa riunione è che ci vuole un'ulteriore attenzione, quindi un incremento di figure professionali, di figure sanitarie nell'ambito dell'intervento proprio sul territorio, quindi potenziamento dei servizi dell'USCA, dell'UCAT che stanno rispondendo in maniera adeguata proprio a livello regionale. Dottoressa Veri, siamo a settembre, ci avviciniamo all'autunno, siete pronti per una eventuale non seconda fase ma comunque per l'arrivo di quel periodo che coincide storicamente con il proprio periodo influenzale? Guardi, noi siamo pronti e lo siamo stati anche nelle varie situazioni diciamo questo spettro dell'autunno io non lo vedrei in questi termini allarmistici in quanto stiamo gestendo tutte le situazioni, in modo particolare una volta che viene tolto quell'elemento di interazione con altre regioni che è stato il periodo estivo che ci ha prodotto qualche focolaio sono convinta che continuando con quelle norme comportamentali che sono punti fondamentali per evitare il contagio la nostra regione risponderà bene. Siamo in prossimità dell'apertura dell'anno scolastico, abbiamo dato la possibilità proprio ieri in giunta attraverso una delibera di riaprire il 24 quindi avremo uno slittamento anche per quando c'è la possibilità per la somministrazione dei test serologici a tutti gli insegnanti quindi maggiore attenzione riguardo alla prevenzione. A proposito di apertura delle scuole poi darò la linea allo studio a Jacopo Forcella a proposito proprio dell'avvio dell'anno scolastico ci sono delle preoccupazioni soprattutto per quello che riguarda il trasporto dei ragazzi dalle proprie abitazioni alle scuole anche per quanto riguarda il riempimento dei mezzi pubblici? Uno dei motivi per cui abbiamo posticipato questa apertura è proprio perché si sta lavorando anche sotto questo aspetto ma impegnati ad aumentare questo numero che va dai 75 all'80% della capienza nei pullman ma con regole ben precise quindi è fondamentale rispettare anche nei momenti in cui c'è l'avvicinamento la possibilità di indossare le mascherine. Jacopo a te la linea per qualche considerazione domanda all'assessore Nicoletta Verini. Sì innanzitutto assessore buon pomeriggio grazie per aver accettato il nostro invito io volevo fare con lei una considerazione rispetto a quella che è un suo parere rispetto alla gestione dell'estate abruzzese siccome se ne è parlato tanto e nella fase più acuta del contagio lei ovviamente è stata veramente sotto pressione. Ecco come abbiamo gestito per l'assessore Nicoletta Verini i contatti interpersonali durante quest'estate? Allora con vigilanza ed attenzione perché nei momenti in cui si creavano quegli diciamo quei momenti di aggregazione dove ci poteva essere maggior scambio devo dire che attraverso le verifiche attraverso i controlli che ogni sindaco ha messo in atto siamo riusciti a contenere il più possibile. Siamo ai primi di settembre per cui i contagi avvenuti già dal periodo di ferragosto già avremmo dovuto avere un indice alto di positivi cosa che invece non c'è stato. Quindi abbiamo una garanzia di una gestione oculata è vero che attraverso un interscambio maggiore che abbiamo avuto che se da un lato si evince una regione attrattiva, attrattiva anche da un punto di vista di sicurezza nell'ambito sanitario è anche vero che attraverso questo scambio c'è stata la possibilità purtroppo di avere dei focolai però come regione siamo stati molto molto attenti. Basta pensare che siamo tra le prime tre regioni insieme alla Lombardia e Lazio e quindi anche l'Abruzzo in qualità di assistenza, di attenzione e di prevenzione negli aeroporti. Basta dire che noi abbiamo tamponato tutti coloro che provenivano da altre regioni con possibilità di rischio e questo è stato un elemento di prevenzione che ha evitato qualsiasi altra forma di divulgazione del virus. Assessore, si è parlato molto di vaccino in relazione al Covid-19, però visto che prima Paolo Lorenzetti ha introdotto il tema autunnale e si avvicina anche il momento del vaccino anti-influenzale Ecco, il punto sulle scorte e su magari le linee guida per chi deve ovviamente fare o confermare il vaccino anti-influenzale Sì, da noi in regione Abruzzo io ho presentato una delibera mesi fa in cui risultiamo tra essere tra le prime regioni ad attivare delle linee guida. La campagna di prevenzione parte dai primi di ottobre quindi abbiamo anche allargato il ventaglio di intervento per coloro che devono effettuare questi vaccini partendo da 60 anni ed è gratuito in modo particolare anche agli scolarizzati ma soprattutto anche la vaccinazione che consigliamo fortemente a tutti gli operatori sanitari E' importante la vaccinazione perché nel momento in cui i sintomi possono dare un allarme ulteriori sintomi influenzali e quindi immagino che si creerà un'allerta da un punto di vista della presa in carico dei pazienti a livello dei medici medicina generale, del pronto soccorso per cui vaccinarsi è fondamentale Abbiamo fatto una richiesta, siamo insieme all'ARIC, delle regioni che hanno presentato dei bandi per poter delegare per poter acquisire maggior numero di vaccini e stiamo continuando su questa linea ma a breve si concluderanno altre gare Grazie Jacopo, un'ultima domanda proprio in previsione dell'autunno e dell'inverno Nei mesi scorsi avete lavorato per aumentare i posti letto disponibili è stato inaugurato aperto mesi fa il Covid Hospital di Pescara Per quanto riguarda le risorse umane ci sono state delle assunzioni come lei aveva annunciato anche nelle settimane scorse Abbiamo un numero elevato di personale che noi abbiamo assunto in tutta la regione che continueremo ad assumere, stiamo portando avanti tutti i concorsi, tutti i bandi per cercare di reperire anche quel personale che purtroppo da un punto di vista in modo particolare dei medici sono carenti su tutta la nazione Basti dire che ci sono dei concorsi che non hanno avuto risposte per cui non ci sono stati medici che hanno risposto a questi bandi li stiamo ripetendo ulteriormente abbiamo attinto da tutte le gradatorie e abbiamo veramente un numero elevato che è stato assunto durante il periodo Covid anche alcuni a tempo indeterminato alcuni a tempo determinato e continueremo su questa via Grazie, grazie davvero all'assessore regionale alla sanità la dottoressa Nicoletta Vedi grazie per aver accolto il nostro invito come sempre grazie a Loris e Bennato per l'assistenza tecnica da Pescara a linea che può tornare allo studio